E' stato presentato ufficialmente il corso base d'inglese che la Banca di Credito Cooperativo di Fano offre gratuitamente ai suoi soci grazie ad una collaborazione con il Polo Scolastico 3 della Città della Fortuna. Le persone che hanno inviato la loro richiesta di iscrizione sono state in pochi giorni quasi 150 a fronte di 20 posti disponibili. E per premiare l'interesse dimostrato la Banca, ottenuta la disponibilità delle insegnanti, ha deciso di investire ulteriormente nell'iniziativa proponendo ben 5 edizioni successive del corso. Partecipano persone di tutte le età, ha specificato il vice direttore Marco Pangrazi. L'iscritto più giovane è un 26enne, mentre la socia più matura ha ben 85 anni. E' la dimostrazione che siamo riusciti ad interpretare le esigenze dei soci, ha concluso, offrendo un'opportunità sia di formazione che di scambio sociale. Grande entusiasmo inoltre è stato espresso anche da Anna Gennari, dirigente del Polo Scolastico 3, da sempre sede di iniziative, laboratori e corsi di formazione nei settori tecnici, linguistici, grafici e artistici. Questa occasione, secondo Gennari, rappresenta sia una crescita professionale per i docenti, sia un'opportunità per gli studenti per entrare in contatto con il mondo del lavoro grazie ad una solida realtà come quella della cooperativa.